La problematica della protesi d'anca e dell'attività sportiva è una problematica molto viva, legata al fatto che ai giorni nostri l'impianto di protesi d'anca è effettuato anche su persone molto giovani e quindi giustamente e necessariamente hanno intenzione di proseguire un'attività sportiva. L'impianto della protesi d'anca non preclude l'attività sportiva, ovviamente attività sportive tipo il ciclismo, tipo il nuoto o comunque attività sportive non particolarmente traumatizzanti sono indicate nel caso di impianto di protesi, quindi la risposta al paziente, al signore è questa, faccia pure attività sportiva, specie il ciclismo che va benissimo, va benissimo forse meglio quello su strada, quello su terreni accidentati come quelli appunto di sentieri di montagna forse è meglio evitarlo.